Sto ancora tramando? Ti è piaciuto? Sì, l'adrenalina. Bene. Secondo te, di altezza ti piazzi sulla nostra... Forse all'ultimo posto, ma mi sono divertito un sacco. Sei modesto. Non sei arrivato ultimo e nemmeno penultimo. Hai girato in un minuto 49 secondi e 4. Complimenti! Hai battuto, Jules! Visto? Bene. Dov'è il tassalino di Helen Mirren? Helen Mirren è lì. Ok. 1,52 e 8. Grazie di essere venuto, è stato un vero piacere. Grazie a voi. Signore e signori, Ronnie Wood. Grazie.